Se anche voi negli anni 90 eravate bimbi come il sottoscritto ricorderete bene la tendenza Disney dell'epoca di prendere i grandi classici del cinema d'animazione che avevano sbancato al box office per continuare l'oltranza da una parte con dei film sequel rivolti esclusivamente al mercato un video, quindi VHS e i primi DVD, e dall'altra continuare alla storia originale con delle serie animate dedicate al piccolo schermo. Ora, poco importa quanti anni aveste all'epoca e quanto foste esperti in animazione, perché laddove vi foste imbattuti in questi prodotti, a prescindere dall'EP di turno targata Disney, fidatevi che li avreste riconosciuti, soprattutto per due motivi. Il primo era da imputare al calo drastico della qualità, perché il canale di distribuzione scelto veniva considerato di serie B, quindi il budget stanziato era notevolmente inferiore. Il secondo era la malsani idea di allargare la mitologia inserendo nuovi personaggi, sperando di rimpolpare la linfa vitale di una storia che si era naturalmente conclusa, risultando però nel 99,9% dei casi molto meno impattante della storia del film originale uscita al cinema. Ecco, Oceania 2 purtroppo è vittima di questo processo contestualizzato però all'epoca moderna. La storia riprende esattamente da dove si era interrotta quale del primo film, con Baiano ormai esperta, navigatrice dell'oceano e prossima a ricoprire un ruolo veramente molto importante all'interno della sua comunità, che ovviamente non vi spoilererò qui. Fatto sta che alla suddetta cerimonia di iniziazione di questa carica, la ragazza ha una visione su una profezia futura, che la spingerà a ripetere esattamente quello che ha fatto già nel primo film, ossia salutare la propria famiglia, abbandonare la terra natia e imbarcarsi all'avventura in questo viaggio verso l'orizzonte, per nostra fortuna in compagnia del semi di Omawi. vero cuore di quello che ormai possiamo definire il francese di Oceania, vero motore narrativo e soprattutto vero mattatore all'interno, tanto nel primo quanto nel secondo film. E anzi, Omawi è il vero fiore all'occhiello di questo seguito, ha una self-confidence ritrovata che nel primo gli mancava, ha un'aura da eroe cazzuto, da mentore, una veste inedita al di fuori delle regole nautiche, e che secondo me servono a controbilanciare tanto da una parte la componente comedi quanto quella più umana. Quindi, Omawi promosso. Ovviamente io vi ho rivelato solo l'incipit della trama, perché esattamente come il viaggio nel primo film, anche questo riserverà non poche sorprese e colpi di scena. Il problema è che dal primo film pesca anche molte delle tappe che i personaggi esploreranno all'interno dell'avventura. C'è l'incontro-scontro con i pirati, ci sono le peripezie durante la navigazione, c'è l'esplorazione di posti pericolosi dal nome altisonante alla ricerca di qualcuno o qualcosa, c'è il naufragio alla deriva in un posto deserto dove si acquisiscono nuove consapevolezze, tutte cose che messi insieme fanno saltare inevitabilmente all'occhio la natura televisiva alla base della storia. Voglio farvi qualche esempio per rendervi maggiormente chiaro quello che sto provando a dirvi. Fateci caso, ogni circa 20-25 minuti, un minutaggio strano che corrisponde guarda a casa a quello di una puntata in una sera animata, i personaggi si trovano di fronte a un cliffhanger e vengono sballottati da una location all'altra, con conseguente cambio di missione e o obiettivo. E sempre ogni 30-35 minuti circa c'è invece un singolo numero musicale con coreografia al seguito. Questa è una struttura episodica che ci dice che c'è la missione della settimana con una canzone appuntata. E questo cambiamento all'interno della struttura si vince anche dal cambiamento apportato al modello registico. E se adesso state per scrivermi nei commenti, è normale che la regia sia differente dal primo film, perché i registi sono cambiati. Vi rispondo innanzitutto grazie al K, ma in seconda battuta vi dico anche che Disney, laddove ne ha la possibilità, odia, ripeto, odia adottare soluzioni di continuità. Quindi, con i suoi franchise, cerca di essere il più lineare possibile. Se guardate il primo Oceania, la telecamera, la narrazione non si spostano mai da Vaiana, al di fuori di sporadici momenti in cui l'adorabile cucciolone di Maui gioca e scherza con i suoi tattoo, cosa che succede anche in questo film. Però, in questo sequel, che cosa succede? Abbiamo dei cambi di scena dove Vaiana non c'è. Ci si concentra sul punto di vista di Maui, ci sono dei siparietti comici con il nuovo roster di personaggi, e poi addirittura viene dato spazio ai Villain. È una cosa molto, molto diversa. È una narrazione molto corale, che ci porta in diverse situazioni, proprio come si fa con le serie TV. Ora, lo spettatore più grandicello, sgamato, non è stupido. È arrivato alla fine del primo Oceania, per come quella storia gli è stata presentata agli inizi. Capisce perfettamente che quella sia una chiusura netta, definitiva. E infatti questo sequel arriva otto anni dopo, in un momento in cui Disney, in una grande difficoltà creativa, ed effettivamente non sapeva che pesci pigliare. E sino alle prime battute di questo sequel, a suon di retcon, si capisce immediatamente che la volontà è quella di reinventare la mitologia a posteriori, espandere la sua geografia, riscrivere il folklore, ed è inevitabile anche cambiare la protagonista. Perché Vajan aveva terminato il suo percorso, il suo coming of age di navigatrice, il suo sogno, la sua ambizione, l'aveva realizzato già nel primo film. E in seconda battuta, gli hanno dato qualcosa in più, un upgrade, per non farla sfigurare di fronte a Maui, in future storie. Perché sì, questo film non vi dice solo che è una serie TV mancata, ma che state guardando la prima stagione di quella serie TV mancata. Ora so che quando in apertura recensione vi ho detto che nei sequel direct to video Disney non fosse solita stanziare chissà quale budget portando a un calo drastico della qualità, posso avervi allarmati. Però, per onestà intellettuale, devo dirvi che questo non è assolutamente il caso di Oceania 2. Anzi, il character design dei personaggi è bellissimo, riconoscibile nei tratti somatici a quello del primo film, ma allo stesso tempo più votato al realismo. E questa cosa è molto difficile da spiegare perché la gamma, il range di espressioni, di umanità, di realismo che questi personaggi riescono a esprimere è veramente alto, vastissimo, ma allo stesso tempo mantengono inalterati i tratti cartuneschi che li hanno contraddistinti. E anche le animazioni sono fluidissime, soprattutto per quanto riguarda i dettagli del corpo, sempre realistici. E parlando proprio di arte, nel vero senso del termine, qua non parliamo più dei costumi esotici o magari dei caratteristici tatuaggi che ho citato prima. Quanto più di pori della pelle, rughe, muscolatura di crescita della barba, invecchiamento, venature. I personaggi sono davvero veri, anche se sono dei cartoon. È un ibilio molto strano, potrebbe sembrare cringe o grottesco, invece è assolutamente bello da vedere, così come sono belli da vedere i paesaggi e soprattutto l'acqua. In questo film l'acqua ha un ruolo importantissimo e il movimento delle onde, dell'effetto bagnato sui corpi dei personaggi e i loro capelli, peraltro la fisica dei capelli è incredibile, e la schiuma, la violenza della natura, secondo me è espressa davvero molto molto bene. Da un punto di vista musicale, e qui parlo da fan dei musical, questo film mi ha veramente reluso. L'ho trovato clamorosamente sotto tono rispetto al primo. C'è una singola canzone che mi è piaciuta davvero, e penso che sia l'unica che sia piaciuta un po' a tutti, visto che in produzione l'hanno utilizzata tre volte, compresi i titoli di coda. Sul fronte registico, questo film non è sontuoso e non regala l'epica di Maschere Clements con il primo, perché ancora una volta, ahimè, fa gioco forza una sceneggiatura che inizialmente era concepita per una serie tv, e si sente, però devo dire che Miller, Ender e Eric Junior, a differenza del primo Oceania, hanno reso questo film meno dispersivo e più contemporaneo. Sono fresco di rewatch, e ho trovato il primo film pieno di lungaggine, soprattutto molto lento a carburare a partire, riproponendo e reiterando un po' di gag situazionali che non erano assolutamente indispensabili, e soprattutto sbilanciato in favore della commedia anziché l'azione. E questa è una cosa che invece, nel sequel, devo dire che è molto, molto più armoniosa. C'è un 60% di azione e un 40% di commedia, ed è così che dovrebbe essere. Ora, se è vero che avevo avvertito il primo film inutilmente lungo, questo secondo, che comunque è più breve di un quarto d'ora, compresi i titoli di coda, sembra avere un montaggio tagliato con l'accetta. Ok che la trama era stata concepita originariamente per una serie tv, e probabilmente nel passaggio da piccolo a grande schermo, lo screen time per alcune situazioni e personaggi è stato considerato eccessivo, anche per una questione di sforamento di budget, chi lo sa, e quindi si è optato per tagliare un pochino il minutaggio, ci può stare. Fatto sta che i villain non sono pervenuti. I comprimari stanno attraversando un momento di crisi, avrebbero avuto bisogno di un momento di riflessione, di confronto, e anche di risoluzione a schermo per rimettersi in carreggiata, e lo fanno, solamente che non sappiamo perché. Si riprendono perché sì. Se Oceania 2 fosse arrivata su Disney+, sotto forma di serie tv, vista l'alta realizzazione tecnica e soprattutto come alza la posta in gioco, probabilmente oggi noi ne staremo parlando come una delle più belle sorprese di questa stagione. Ma siccome arriva sotto forma di film cinematografico, quasi dieci anni dopo l'originale, così come è impostato sembra più che altro che faccia il verso alla Marvel lanciando il Vaiana Cinematic Universe. E io personalmente non mi sentivo il bisogno. Per carità, meglio di Wish su tutta la linea, eh. Però Disney, ancora non ci siamo. E io personalmente non mi sentivo. 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 Grazie.